benvenuti benvenuti a un'altra puntata un'altra eccitante puntata di 20 minuti sono particolarmente compiaciuto di potervi presentare una persona che innanzitutto mio carissimo amico che ha collaborato con articoli di grande spessore per la rivista nexus a suo tempo e oggi andremo a parlare a fare due chiacchiere di venti minuti con daniele romano eccolo qua daniele benvenuto allora intanto direi che potresti spendere qualche minuto per dire a chi ci ascolta ma chi è daniele romano da dove viene cosa sta facendo dove vai allora evitiamo gli ultimi ciò che mi sono occupato da parecchio tempo da qualche decennio del della salute delle persone ed in chiave naturale soprattutto nell'ambito nell'ambito biofisico quindi possiamo chiamarla la biologia delle frequenze quindi ho coniugato le conoscenze elettroniche con le conoscenze biologiche dei costi biologici sia positivi che negativi degli effetti biologici sia positivi che negativi delle frequenze quindi le frequenze come opportunità di salute e ovviamente quindi non solo come come danno perché sono stati forse sono state conosciute fino ad oggi prevalentemente come danno che non come e come opportunità di guarigione o di salute di riequilibrio e sono inciampato su cose straordinarie sono inciampato veramente dicono pretendo di essere un inventore diciamo che è un ambito abbandonato dalla medicina l'energia soprattutto tenendo conto che è addirittura misurabile quindi si possono utilizzare i parametri della dell'elettronica voglio dire della validazione quindi della certificazione e della ripetibilità statistica quindi hanno tutti i requisiti per diventare veri e proprie linee guida della medicina quindi stiamo parlando dei cempe cosiddetti sempre che mi sa per campi elettromagnetici pulsati esatto che una è uno dei campi delle dell'energia biofisica cioè tutto il campo elettromagnetico nell'universo ecco quindi la vita è campo elettromagnetico batteri virus eccetera eccetera lo stesso covi è un segnale elettromagnetico che magari se avessimo seguito la strada indicata da buon montagnè non forse certo sono ricerche costosissime ma è un segnale che forse si può disattivare elettromagneticamente ma sono strade che non sono ufficialmente ancora mentre sono validate su tantissime patologie però così è una specie di hobby della nell'ambito della medicina ricordiamo a chi ci ascolta ricordiamo a chi ci ascolta che queste ricerche queste conoscenze non nascono non sono frutto delle ultime cioè sono nascono da tanto tempo fa il primo esempio che mi viene in mente sono le ricerche di royal rife che fece delle cose straordinarie all'inizio del secolo scorso certo e che vende naturalmente ostracizzato e distrutto per questo perché si mise contro il sistema diciamo così che lavorava proprio con le frequenze per distruggere i patogeni cosiddetti certo ma se pensiamo addirittura ai curi no all'effetto piazza elettrico o poi wolf la prima fine dell'ottocento che perché l'osso si rigenera l'effetto piazza elettrico che prima di vedere sugli effetti biologici l'effetto piazza elettrico fu scoperto alla fine dell'ottocento poi fu sul che cos'è l'effetto piazza elettrico ripetiamolo rapidamente è la trasformazione di una azione meccanica in una in un effetto elettrico e viceversa quindi i classici accendini no una pressione sul quarzo si trasforma in una scintilla di un segnale elettrico ad esempio quindi una pressione muscolare si trasforma in una microcorrente che attraversa l'osso nel 1957 fucuda e esuda pubblicarono su pammed studi importantissimi a banca d'arte della medicina sulle microcorrenti generate nell'osso dal dagli sforzi muscolari e queste microcorrenti fu scoperto che attiravano gli ostoblasti facevano quindi le nuove cellule osse facevano depositare degli ioni di calcio e si generavano le nuove cellule osse il protocollo a cui siamo giunti noi a cui sono giunto io è un uso totalmente diverso dal dilettantismo e dalla marginalità purtroppo che ha avuto hanno avuto i trattamenti biofisici fino ad oggi dei campi ritrovagnetici pulsati perché la magnetoterapia è stata come dire sono state considerate delle applicazioni al blandamente antalgiche solamente per il dolore cioè quindi un uso del tutto subalterno alla cultura farmacologica è simile al agli antidolorifici mi prendo qualche cosa per il mal di testa allora faccio un trattamento di 20 minuti mezz'ora per diminuire il dolore al ginocchio o le anche o il piede o la spalla e così via ecco vuol dire usare una ferrari solamente per posteggiarla in garage ma questo voglio dire con una complicità non voglio parlare di complotto assolutamente parlerei più che altro di ignoranza nel senso di ignorare dei produttori del mondo stesso della medicina che non conosceva gli studi nessuno si è sforzato di leggere né alcuna università ha mai insegnato ai medici fisioterapisti osteopati eccetera eccetera l'elettronica gli effetti no del dei campi elettromagnetici che sono certificati nella banca dati della medicina quasi con venti mila studi non di meno scusa se ti interrompo scusa se ti interrompo non di meno abbiamo una grande personalità come il dottor costa che ricordiamo la tc ascolta è stato il diciamo così il medico dei piloti del motociclismo che non è stato non so se definirlo un pioniere comunque ha più volte rimarcato quanto i miracolosi perché si può parlare di questo miracolosi risultati che lui ha tenuto nel rimettere in piedi piloti che avevano erano caduti e si erano fratturati o comunque danneggiati parecchio eh lui ha rimarcato che i buona parte dei suoi risultati li ha ottenuti grazie a diciamo così a una metodologia del genere mi sbaglio? No assolutamente sì c'è nel senso che io ho lavorato eh con aziende che eh avevano ehm così l'assistenza eh insieme al medico sportivo di importati squadre anche di nome internazionale e eh chiaramente il fratturato si eh eh si riparava in un terzo del tempo eh o comunque e poi i tempi di recupero non solo delle fratture ma delle contusioni dello sforzo eh sportivo eh mi ricollego al discorso di prima per esempio molti medici con cui parlavo parlo eh non colgono il quando è fatico eh si ehm si cede energia e mi e mi dicono ma in che senso si cede energia perché eh ehm già quello il termine chimico di gestione di energia già è complicato figuriamoci quello eh elettronico no? Perché non l'hanno studiato all'università cioè l'unica facoltà che ce l'ha è quella di biotecnologie e ingegneria no? Quindi per loro è un mondo è un mondo è un mondo nuovo però un mondo con cui dovranno fare i conti perché eh è un'opportunità veramente straordinaria che ha delle eh delle eh innanzitutto innanzitutto la biofisica oggi eh ha delle possibilità eh diciamo che eh non ha i costi eh dei farmaci e ovviamente si integra la chimica e la e la fisica erano i due le parlavamo di Raif il post Raif è che eh negli anni trenta del secolo scorso avrebbero dovuto le due gambe che avrebbero dovuto sostenere la medicina quindi la la biofisica eh non c'è stata è stata tutta la medicina si è retta solamente sul sull'ambito con la con la con l'arto della della chimica e della biochimica adesso è arrivato il momento anche perché non ci sono più soldi no? Eh si si sono esaurite le risorse e sì io del tutto ho preso spunto eh per fare questa caccherata con te dal caso di una persona eh a me piuttosto cara un mio amico che eh insomma era immobilizzato aveva un problema se non sbaglio le ginocchia se non ricordo male eh per cui non riusciva più a camminare non riusciva più a fare le scale di casa era era veramente un grosso problema l'ho indirizzato a te e grazie a questa metodologia dillo tu quali sono i risultati che 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 sì allora lo so che può sembrare io non voglio fare l'effetto come dire miracolistico assolutamente ma per me cioè sono cose scontate perché eh è tutto scritto cioè si tratta di applicare di osservare no? E con questa persona adesso cammina due ore al giorno se va a fare delle passeggiore sì 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 di fatto sì non eh non riusciva a fare a malapena fare le scale eh una persona di quasi settant'anni eh con un bellissimo spirito e però con grossi limiti del corpo usurato no? Eh ma questa è la normalità a meno che non ci siano condizioni genetiche o patologiche terrificanti genetiche soprattutto ehm perché i campi retromagnetici pulsati ehm usati in un determinato modo non come vengono usati cioè quindi in maniera sintomatica come avviene oggi e con determinate onde ok con quindi con l'onda sinusoidale da cui derivano tutte le onde e l'onda matrice di tutte no? Eh ha funzioni di rigenerazione dei tessuti anti-infiammatoria anti-edemigena eh ehm ha una funzione soprattutto di riequilibrio che non esiste la funzione di riequilibrio nella farmacologia chiedo scusa non voglio attaccare eh i farmaci assolutamente ma eh si si parla di farmaco ad esempio per l'ipotiroidismo uno per l'ipertiroidismo ma il il cioè ehm le le frequenze determinate frequenze portano all'equilibrio biologico quindi riattivano tutte le ehm i trilioni di di cellule e quindi ehm hanno una funzione sistemica quindi diciamo che riparte tutto riparte tutto e si recupera qualche anno si recupera ehm è un cellule ehm viene restituito viene restituito viene c'è c'è una cessione di energia alle cellule no? Eh per cui ritornano ehm al ehm con la tensione e il potenziale che avevano eh anni prima no? Quindi un funzionamento quindi anche metabolico anche sul metabolismo dell'osso eccetera eccetera per quanto riguarda la rigenerazione parlavamo prima dell'effetto pezzo elettrico quindi una corrente no? Che passa e una microcorrente perché il campo elettromagnetico porta una microcorrente che non sentiamo che non avvertiamo e che eh durante il sonno quindi per sette otto ore rigenera il i tessuti mh la cartilagine il collagene di cui siamo fatti e e e e con questo dico sembra è tutto è tutto molto semplice gli astronauti la usano i comuni cittadini no eh per loro sì e per noi no eh l'uso che viene fatto nei centri è eh quando ti fratturi mh metti un'ora al giorno mezz'ora al giorno eh quindi due ehm due placche due solenoidi ma servono a ben poco eh oppure eh per patologie sistemi come l'osteoporosi l'artrosi la stessa fibromiagia ecco noi abbiamo trovato ad esempio le frequenze della forma d'onda che consentono i muscoli di rilassarsi e quindi ehm di risolvere anche tanti disturbi mh non solo ossei ma anche muscolari insomma è un è un è un campo siamo al all'anno uno sostanzialmente però già con un'esperienza estremamente importante tra le cose i i campi etromagnetici hanno una funzione immediata di riequilibrio posturale perché è un reset ma è un reset naturale quindi ehm parlavamo della sinusoide onda matrice ecco il riequilibrio posturale immediato che c'è con le onde eh sinusoidali eh eh è un beneficio ehm ehm che non solo ha funzioni antalgiche ma ci consente di eh una verticalità ed un andamento della vita eh ehm secondo i principi posso dire per cui siamo stati concepiti eh eh di naturali di di camminare eh eh su madre terra come come siamo stati concepiti prima di tutti i carichi ma quindi riassumendo riassumendo premesso che poi in descrizione a questo video troverete le informazioni tutte le informazioni che vi servono per approfondire anche il tuo contatto per chi volesse mettersi in contatto con te e avere appunto ulteriori informazioni ma riassumendo in poche parole eh quali sono i problemi eh a cui si può si può a cui si può eh per i quali si può utilizzare questa metodologia una breve una breve panoramica. Allora abbiamo detto che innanzitutto l'uso eh l'uso sistemico quindi sia notturno che diurno apre del del degli scenari straordinari per cui in eh in quattro mesi hai già effetti rigenerativi importanti no? Eh quindi quattro o sei mesi osteoporosi eh a parte le fratture le mancate unioni e così via ma non è solo un problema osseo. All'artrosi ad esempio l'artrosi ci sono tante milioni di persone che soffrono di artrosi e si vascolarizzano i campi retomagnetici vascolarizzano gli osteofiti cioè quei vecchi che generano il dolore. Quindi eh dopo un po' di tempo massimo due mesi eh di trattamento notturno per i soggetti più refrattari no? Eh con le peggiori condizioni abbiamo queste eh un un abbattimento del dolore eh perché secondo i protocolli ufficiali eh si è abbandonato alla si è costretto a usare solamente gli antidolorifici no? La vita eh quindi fibromialgia e poi ci sono centinaia di di cosiddette disfunzioni o patologie no? Della rigenerazione della vascella mandibola per mettere gli impianti ehm cioè di di tutto e di più al equilibrio metabolico ehm è utile anche per la coxartrosi per esempio? Quella dell'anca? Eh certo è certo parlavamo di artrosi e e e abbiamo nella coxartrosi abbiamo abbiamo il discorso di cui prima no? Eh posturale no? Del quindi del della rotazione dei del 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 femore nell'anca no? E quindi eh il equilibrio posturale diventa fondamentale nel programma che abbiamo della coxartrosi insieme al ecco ehm ecco i nostri programmi faccio una premessa hanno diverse fasi hm? Perché quando tratti la coxartrosi ad esempio devi trattare eh diversi aspetti non c'è un aspetto è una disfunzione no? Allora hai la persona con la coxartrosi che sicuramente ha una postura sbagliata no? Ma che non viene calcolata cioè hai coxartrosi ti do l'antidolorifico punto no? O cioè cos'hai con la coxartrosi? L'antidolorifico oppure la protesi cioè non eh ci sono queste due le soluzioni. I campi elettromagnetici dal nostro punto di vista invece hai equilibrio posturale o una situazione di di infiammazione diffusa, grossa, importante, poi hai eh 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 la necessità di eh rigenerazione dell'osso corretto che va va rigenerato nel tempo no? E poi hai una situazione anche antalgica perché la persona con la coxartrosi è anche cioè l'effetto antalgico dei campi elettromagnetici non è che va abbandonato eh diciamo che va mantenuto quindi abbiamo quattro aspetti cioè una cosiddetta patologica e quattro aspetti da trattare contemporaneamente nello stesso trattamento. Ok abbiamo raggiunto il nostro tempo limite eh ma ti permetterò ti darò ci prendiamo un minuto in più giusto per se ci riesci per perché ehm credo che eh oggigiorno si guardi un po' a tutto quello che pertiene all'elettromagnetismo i campi elettromagnetici l'elettrosmog il 5G per esempio tanto per dire insomma è un è una è una diciamo una un aspetto molto controverso questo quindi un minuto per spiegare perché appunto come si usa dire una cosa può essere usata in maniera positiva o negativa una cosa di per sé è neutra eh e può essere però ha dei potenziali sia positivi che negativi quindi hm vorrei che spendessi un minuto per eh diciamo così spiegare questo aspetto ma diciamo che il nostro cervello funziona diciamo che noi naturalmente tendiamo a farci dei pregiudizi eh o bianco o nero cioè questo eh la la conoscenza purtroppo passa per queste eh sono tappe obbligate e poi dopo con ehm ecco riusciamo ad andare oltre questo con l'esperienza con la ponderazione e così via allora il il l'elettromagnetismo eh c'è stato un periodo in cui è stato considerato tutto negativo attenzione qualsiasi cosa era eh mi faceva del ci faceva del male non è vero non è assolutamente vero eh eh innanzitutto è un problema di come dicevano i greci di limite no? Allora stabiliamo la misura che cosa è che fa bene che cosa è che fa male e il eh per esempio noi non trattiamo le frequenze che superano i gigahertz perché eh sono molto poco conosciute nei loro effetti eh biologici eh ma eh eh ad esempio nel funzionamento cellulare con bassissima intensità i gigahertz potrebbero ehm avere delle funzioni straordinarie eh eh nell'ambito della salute nella cellulare ma anche qui va abbinata intensità eh cioè ehm eh che intensità ci metto eh che 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 frequenza uso e soprattutto dove la uso e perché cosa la uso? Eh è chiaro che se viene usata indiscriminatamente eh eh cambio il terreno e eh eh allora sì eh il terreno è un terreno ehm ehm che modifica eh l'intensità stabilmente no? Che diventa molto più elevata con una frequenza enormemente più elevata e così è chiaro che i parametri biologici cambiano ad esempio Adei negli anni cinquanta eh parlò della famosa finestra, finestra di Adei eh cioè che cos'è la finestra di Adei? Dieci secondi rapidamente. Sì, stiamo sforando. Ho sforato eh? Sì, vai tranquillo ormai dieci secondi. Allora i tessuti biologici per eh eh nutrirsi del segnale elettromagnetico eh ecco il segnale per aprirsi questa finestra per cui assorbono l'energia il segnale deve essere un po' più forte ma non molto più forte e non stabilmente più forte. Deve essere per un periodo di tempo limitato. Allora qui invece la situazione è che il segnale è molto più forte per un periodo di tempo illimitato. Quindi sostanzialmente mancano tutti i parametri di cui prima. Cioè non sappiamo, non ne sappiamo assolutamente nulla. Quindi io tutto ciò che è eh eh illimitato no? No lo rifiuto perché è precondizione di un danno. Va bene. Quindi prima bisogna eh studiare e poi eh applicare ma eh un cieco di notte eh è destinato a farsi molto ma molto male. Sei stato chiarissimo Daniele. Io davvero non so come ringraziarti per questa bellissima caccherata. Quindi eh a chi ci ascolta troverete in descrizione le informazioni per approfondire questo affascinante argomento. Eh vi ringrazio per la vostra attenzione e come uso sempre a terminare i miei deliri lunga vita e prosperità.